Buon pomeriggio a tutti. Oggi è con noi a discutere dell'emergenza che stiamo affrontando e soprattutto di ciò che ci aspetta Massimo Cacciari, che fin dall'inizio è tra i principali animatori del Festival della Politica e di tutta l'attività relativa alla Fondazione Gianni Pellicani. Il Festival è online in attesa di rivederci nelle piazze di mestre oppure in altre forme che ci saranno consentite in base all'evoluzione dell'emergenza che stiamo vivendo. Ma l'attività della Fondazione continua e intanto cominciamo questa conversazione con Massimo Cacciari. Ciao Massimo. Ciao Nicola, ciao a tutti. Inizierei cercando di immaginare la fase 2 di cui si sta parlando molto in questi giorni. Il virus continuerà a circolare, come abbiamo capito, finché non si stabilirà un'immunità di gregge naturale o da vaccino. Ecco, secondo te siamo pronti, siamo organizzati a questo salto nei nostri stili di vita privata, lavorativa, in questa nuova socialità che dobbiamo affrontare, che riguarderà innanzitutto il lavoro, ma non solo. Dovremo affrontare questa situazione, sarà un dovere, una necessità. Non è pensabile che noi si possa continuare con una vita di questo genere, con tre quarti delle imprese chiuse, con le scuole chiuse, con gli spettacoli chiusi, i teatri chiusi, le attività come il Festival della Politica Online e basta, da qui al rischio zero. È assurdo pensarlo. È pur realismo che ci fa dire che occorre stabilire fin d'ora, diciamo, dei protocolli, delle norme, degli ordini, in base ai quali gradualmente, con tutte le avvertenze del caso, con tutte le precauzioni necessarie, noi riprendiamo a vivere. Questa è una necessità, non soltanto economica, perché altrimenti poi, se vuoi, ne parleremo, il paese va a rotoli, l'economia non può reggere, ma anche sociale, anche psicologica, direi. Noi non possiamo assolutamente pensare di poter continuare a stare in prigione ancora per dei mesi. è impossibile e quindi bisognerà vedere chi può riprendere la sua attività in base ad esami, in base a valutazioni oggettive, con quali protocolli e con quali precauzioni le attività produttive e quali per prime, quali per seconde, quali per terze possono riprendere, in quali regioni, in quali situazioni, appunto, sanitarie, che sono diverse da regione a regione, come sappiamo benissimo, ma questo approntare la fase 2, avere in mente di come deve essere organizzata la fase 2, è assolutamente necessario, perché non possiamo certo attendere il rischio zero, a parte il fatto che il rischio zero per dei viventi non esiste. Quindi, eh, esatto. Cerchiamo di non essere proprio paradossali, no? Perché siamo un paese, tutti i paesi, nei quali, appunto, continuiamo ad inquinare, continuiamo a fumare sigarette, a bere alcol, eccetera, eccetera. Quindi, non stiamo adesso a pensare che possiamo lavorare e vivere soltanto senza rischio, che è una scemenza. Questo comporta, però, necessariamente anche un'organizzazione, una programmazione su tutte le protezioni, le misure che vanno adottate. Ma non è mica difficile immaginarle, no? Cioè, possono essere vari parametri di cui si tiene in conto e in base a questi parametri si calcola un risultato. Parametri che possono essere da regione a regione, da comune a comune, il livello del contagio, dell'epidemia, eccetera, che può essere la pericolosità di un'attività piuttosto che di un'altra. È chiaro che un grande assembramento è diverso rispetto, invece, a delle persone che stanno ad opportuna distanza, con la propria mascherina idonee, eccetera, eccetera, all'interno di uno spazio che può essere un'impresa o un ufficio. Cioè, ci sono situazioni molto diverse che andranno valutate oggettivamente. Ognuna di queste, ognuna di queste, dai un valore e alla fine hai un risultato. È matematica, voglio dire, no? Questo comporterà anche il modo... L'età delle persone. L'età delle persone. Io non ne posso più, obiettivamente, di questa conferenza stampa delle 18, che andrebbe, secondo me, eliminata per legge. Perché questa conferenza dà delle notizie assolutamente in termini non scientifici. Perché la mortalità in quanto tale, o i guariti o i ricoverati, non ha alcun valore. Bisognerebbe, appunto, stabilire, regione per regione, quanti sono, appunto, i controlli che operi, prima cosa. Poi mi si dovrebbe dire l'età di questi morti o di questi ammalati. Poi mi si dovrebbe dire il sesso di questi ammalati, di questi morti. Se mi danno dei dati, me li devono dare in termini scientifici. Se no, facciano di meno di darmeli. È il cavolo. Sta diventando una radiocronaca. Una radiocronaca dei ricoveri della mortalità. Quando cade un aereo, tu mi puoi dire ci sono 200 morti. Ma non in un'epidemia. In un'epidemia vi devi dire, questi morti sono, di questa età, avevano queste altre patologie, sono di un sesso o di un altro, eccetera, eccetera. Mi devi dare tutti questi dati, se no fa di meno di darmeli. Fa di meno di darmeli. C'è l'ordinanza del governo che, in base a quello che dice l'autorità sanitaria, mi dice state tutti a casa. Bene. Ma se mi devi dargli dei dati, dammeli con una serietà scientifica. Se no, fa di meno di darmeli. Ecco Massimo, la curva del contagio sta calando, ma molto lentamente, a quanto pare. Comunque dobbiamo prepararci a quella che sarà soprattutto un'emergenza economico e sociale, che è quella che dobbiamo affrontare quanto prima. Il governo ha adottato delle misure, anche straordinarie, come Magnum aveva fatto prima, probabilmente, e l'Europa anche ne ha adottate altre, con l'Eurogruppo che si è riunito qualche giorno fa. Come valuti queste misure? Sufficienti? Solamente misure tampone? Ma è evidente che sono misure tampone, dichiaratamente tampone. Sono le misure che, dettate da una situazione che oggi, se non ci fossero degli interventi adeguati di emergenza, diventerebbero esplosive sul piano sociale. Quindi è evidente che devi rincorrere. Sono misure che rincorrono la situazione d'emergenza. E mi auguro siano efficaci, ma anche qui, al momento, mi risulta che nessuno abbia ricevuto un Euro. Certo, certo. Ma dico, è impressionante questo, capisci, e su questo poi semmai ritorneremo, perché o questa crisi ci insegna che cosa occorre fare in questo Paese da domani immediatamente, sul piano delle riforme istituzionali, sul piano della sburocratizzazione, della semplificazione, sul piano dei rapporti tra i diversi livelli dello Stato, poteri centrali e regioni. O questa crisi ci insegna che domani dobbiamo immediatamente porre mano a tutto questo. O sennò davvero sarà una tragedia inutile. Una tragedia inutile. Quindi, prima di tutto, appunto, queste sono misure tampone di emergenza. Il problema strategico è avere le risorse per la ripresa rapidissima, per rimettere in moto tutto il meccanismo economico, produttivo e industriale immediatamente finita l'emergenza. Questo è il problema delicatissimo per il quale nessun singolo Paese europeo, se non c'è una vera Unione e una decisione unitaria europea, per stabilire delle linee di credito forti a favore di tutto il settore produttivo, secondario, terziario, primario, di tutti insieme immediatamente. E per questo non c'è dubbio che l'unica soluzione adeguata è quella dell'emissione di un eurobond. Non c'è dubbio che non possiamo assolutamente ricorrere di nuovo a criteri di intervento tipo quelli che hanno dettato l'intervento in Grecia. Non esiste, non ci può essere questo. E questo è il problema, lo scoglio delicatissimo che ci troveremo di fronte. Detto questo, questo non deresponsabilizza minimamente il nostro Stato, minimamente. Perché se appunto abbiamo queste strutture burocratiche e elefantiache, se non abbiamo semplificato nulla, se non abbiamo delegificato nulla, se non abbiamo fatto nessun testo unico, se non abbiamo risolto assolutamente il problema del rapporto tra poteri centrali e regioni come questa crisi ha dimostrato ad evidenza. Cioè non è colpa dell'Europa, è colpa della politica italiana, è colpa dei certi dirigenti italiani. E allora, prima di protestare contro l'Europa, vogliamo dire cosa facciamo noi su questi piani? Deficit spending, ne parlerai penso anche con Cotarelli, eccetera, di questo, no? Vogliamo dire cosa facciamo noi seriamente, finalmente, come italiani, di tutto quello che non abbiamo fatto da trent'anni a questa parte? Pur sapendo benissimo cosa si doveva fare. Allora, questo vorrei sentirmi dire da Conte e dai suoi eroi. Questo? Che cosa intendono fare su questi piani? Detto questo, detto questo, il problema sociale drammatico non viene meno per nulla, eh? Perché? Ma perché è evidente che, anche se l'Europa farà completamente il suo dovere, anche se si avvieranno finalmente queste strategie di riforma di cui ho parlato, la prossima è legge di bilancio, saranno lacrime e sangue. No, è certo che i nodi, come dire, vengono al pettine, no? La mancanza di riforme strutturali che non ha fatto il nostro Paese, la mancanza di una politica europea solidale, almeno su quei temi, no? Tipo quello della salute, dell'ambiente, del welfare, cioè che comportano un governo unitario, no? Che comprende, che non può risolversi all'interno di un unico Paese, di un unico Stato. Ecco, ma su questo scontiamo anche una incapacità, direi, strutturale di affrontare questo tipo di problemi. Adesso siamo nella condizione di, siamo obbligati, tu stai dicendo, se non ho capito male, a farle queste cose adesso, parlare di semplificazione. Se non le facciamo sarà il disastro, se non facciamo queste cose ormai, cioè non siamo più nella condizione di poterle rimandare, perché rimandarle significa aggravare una situazione di bilancio del nostro Paese che è già di per sé drammatica. Perché queste questioni, quando Conte dice 400 miliardi, io sento la gente in giro che dice, ma dove li avevano questi 400 miliardi? 400 miliardi? Sono debito, amici. Sono tutte garanzie. Garanzie sul fatto che nel prossimo bilancio noi scriveremo 500-600 miliardi di debito in più e l'Europa ce li consentirà. Va bene, ma poi ce li paghiamo noi, non ce li paga l'Europa. Ecco, sarebbe quindi anche necessario, secondo te, da parte dell'Europa, una politica non solo per l'Italia, ma per tutti i Paesi coinvolti di aiuti, non solamente di prestiti. No, qui si continua a fare casino. Bisogna capire bene. L'Europa adesso deciderà, sta già decidendo, deciderà. Poi ogni Paese, in base alle sue strutture, erogherà più rapidamente o meno rapidamente, in base alle sue strutture amministrative, in base a come funzionano le banche. Perché anche le banche adesso mica ti erogano e stanno lì che devono aspettare i decreti attuativi, che devono aspettare non so che cosa, ma io ho esperienza che gli imprenditori che sono andati a chiedere soldi alle banche, mica li hanno dati. Ecco, vabbè. Quindi è tutto ancora, vabbè. Ma comunque sono questi miliardi, questi miliardi ci saranno e questi miliardi arriveranno, magari con aiuti europei, eccetera. La fase 2 è quella nella quale ci sarà e questi miliardi poi te li dovrai pagare. Tu adesso puoi splaffonare i debiti, ma il debito ce l'hai. La fase 2 è quella che dicevo degli investimenti strategici per riformare, ristrutturare, innovare, per rilanciarsi rapidamente. Quelli occorre che siano finanziati da un euro bond. Hai capito? Cioè, quelli. Quello sì è l'Europa, ma questi soldi è semplicemente che l'Europa ti permette e ti dice guarda, aumento la liquidità. Tienteli, ci sono. E tu domani scriverai 3,5% di debito di percentuali sul PIL del tuo deficit e io ti permetto di scriverti 3,5% e 4%. Dopo te li paghi tu questi. Non c'è dubbio. Eh. E allora ci sarà un debito che arriverà, secondo me, sui 2.500-2.600 miliardi. Aumenterà di 400-500 miliardi. e il costo di questo debito crescerà in proporzione. Quindi sarà una situazione difficilissima da affrontare se non fai che cosa? Se non fai tutto quello che si era detto. semplificazione deliciferazione testi unici che permettono di riprendere gli investimenti il più rapidamente possibile soprattutto gli investimenti pubblici e anche alcune norme attenzione perché negli altri paesi ci sono delle norme scritte o non scritte in base alle quali per esempio su certi lavori che sono lavori dello Stato e beh lì di fatto sono sempre costantemente privilegiati gli interessi nazionali sempre alla faccia delle leggi europee. È così. Va bene? Ecco. Da noi no. Da noi no. Ci sono sotto banco tutto quello che vuoi ma da noi no. Per esempio delle norme di questo genere. Cioè lo Stato deve riprendere rapidissimamente tutti gli investimenti che ha lì bloccati da sine die. Deve riprendermeli con commissari straordinari con quello che vuole. Deve riprendere immediatamente quegli investimenti e gli appalti devono vedere favorite le ditte nazionali. Non c'è niente da fare in questa situazione. Ecco. Non c'è dubbio però che questo impegno che aspetta il governo avviene in uno sfondo anche un po' a mio modo di vedere preoccupante. Cioè anni di antipolitica hanno comportato un atteggiamento soprattutto in queste settimane di emergenza di indifferenza verso appuntamenti elettorali e anche verso il ruolo del Parlamento. Il ruolo del Parlamento che è una cosa che continua ormai da vent'anni ma che comunque è sempre più svuotato di funzioni perché da un lato appunto in questa emergenza è forse anche uno dei pochi momenti in cui i decreti sono veramente necessari perché bisogna decidere con massima urgenza e poi per semplificare si rischia di andare a una fase commissariale per poter realizzare opere pubbliche eccetera però questo ci mette di fronte anche un quadro che rischia di diventare di emergenza democratica trovi che possa essere così anche. Vabbè non c'è dubbio non c'è dubbio ma sai quante volte abbiamo parlato al festival della politica direi che è il tema che il festival della politica ha affrontato sempre in una crisi della forma di democrazia rappresentativa che abbiamo conosciuto finora è così o i parlamenti si riconquistano un proprio ruolo e qui di nuovo il grande tema delle riforme costituzionali mancate eccetera eccetera o se no la tendenza al rafforzamento degli esecutivi assumerà sempre più un carattere autoritario vedi Orban guardate Orban non è mica lungherietta è Orban è un personaggio che è ammanigliato con grandi poteri con grandi poteri è conosciuto e apprezzato da grandi strutture capitalistico-politiche politico-capitalistiche quindi è un sintomo importante da valutare stiamo attenti a valutare come si deve i sintomi se avessimo capito i sintomi dei disastri che combinano nei mercati cinesi quando magnano pipistrelli serpenti e cani va bene forse non avremmo beccato questa bella epidemia va bene se avessero seguito i sintomi che l'organizzazione mondiale della sanità ti diceva ecco lo stesso vale in politica i sintomi vanno seguiti sono importanti denunciano malattie che possono cogliere e prendere e coinvolgere l'intero organismo va bene ecco allora questa tendenza è quella che tu dici è presente ovunque è Trump questa tendenza non sono cosette non è Orban solo è Trump è per certi versi Johnson è questa tendenza di una di una insofferenza crescente per il ruolo delle assemblee legislative delle assemblee parlamentarie questo e quindi questo non è che risolvi a parole a chiacchiere lo risolvi con delle grandi strategie politiche che ricollochino queste assemblee al centro nel mondo attuale non nel mondo di mio nonno non nel mondo di Giolitti o nel mondo di De Gasperi in questo mondo nel mondo della globalizzazione e allora occorrono riforme che permettano a governo e a Parlamento di avere dei ruoli certo ben distinti ma che siano decisionali entrambi perché il momento della decisione è fondamentale se il Parlamento ha cessato di decidere da quanti anni è che il Parlamento va avanti invece che a fare leggi ad approvare o non approvare i decreti del governo da quanti anni è da quanti secoli chiunque abbia fatto un'esperienza parlamentare sa la fatica che tu hai nel promuovere come parlamentare una legge se è mai riuscito è mai riuscito qualche parlamentare a promuovere una legge in quanto tempo in quanti anni in quanti secoli in una legislatura si è no questo è il punto e quindi vai avanti ad approvare o non approvare i decreti del governo e allora queste cose qui dipendono dalla volontà politica se nel Parlamento non c'è la volontà politica di contare perché c'è oggi nel Parlamento la volontà politica di contare non mi pare c'è la volontà politica ma dove ma dove ma è un discorso vecchio quando si diceva che il Parlamento era l'anticamera dei partiti allora almeno c'erano i partiti adesso non c'erano neanche più partiti allora nella Prima Repubblica il Parlamento contava molto ma comunque dicevano è l'anticamera dei partiti ma c'erano i partiti partiti in cui c'erano discussioni in cui c'erano classi politiche in cui c'erano movimenti di massa erano partiti quindi insomma era tollerabile la cosa adesso e l'anticamera di che cosa? Di niente Adesso siamo siamo di fronte ovviamente a un'emergenza che va affrontata in questo modo ma è chiaro che o il Parlamento avrà la forza di riportare al centro la Camera il Senato Ma il Parlamento che cos'è Nicola adesso? Che cos'è? Diciamoci che cos'è il Parlamento? Che cos'è? Una volta ripeto era l'anticamera dei partiti ed era l'espressione di ceti politici importanti che erano nei partiti adesso l'espressione è che dell'occasionalismo più puro una volta di un capo un mese dopo di quell'altro ma di che cos'è l'espressione? Che cosa vuoi che possa nascere dal Parlamento la volontà politica adesso siamo un'assemblea che decide? Appare un'esempio chiacchiere ma che roba è? Basta vedere quali sono i due presidenti ma insomma sono cose pazzesche insomma la gente non può non capirle è evidente che la gente capisce tutto questo è evidente che la gente capisce che il presidente della Camera non è in grave non è la nilla Iotti è evidente che capisca che il presidente del Senato non è Fanfani ma vogliamo scherzare è l'espressione un po' della marginalità anche che la politica ha assunto in questi anni in questi decenni non solo in Italia ma dappertutto perché i processi finanziari economici ovviamente sono quelli che governano la politica questo non solo in Italia ma un po' dappertutto è sempre più periferica rispetto a quelli che sono i processi decisionali questo è un po' un tema però adesso anche l'Europa è di fronte a un bivio in relazione anche ai rischi che tu evocavi poco fa nel senso che o davvero riesci a dare una risposta che possa essere unitaria e comune oppure c'è veramente il rischio di derive preoccupanti l'Europa Nicola è un bivio un bivio un bivio finale insomma a mio avviso o prende la strada giusta l'Eurobond politiche solidali dice ci siamo siamo europei riscopre con l'idea d'Europa una missione in questo mondo perché è evidente che c'è anche un problema di missione di scopo di senso nella vita di un organismo politico no? cioè perché se ti manca lo scopo il senso cioè com'è che sopravvivi e quindi rispetto al mondo contemporaneo o riscopri questa missione in questo senso diciamo il territorio la terra la federazione di stati dove ci stanno dei diritti dove ci sta una centralità dell'assemblea legislativa dove ci sta una centralità del Parlamento eccetera eccetera della discussione e così via a differenza degli altri grandi imperi o l'Europa riscopre questo schenso questa missione e di conseguenza svolge le politiche che dicevamo o se no non ci sono a mio avviso non ci saranno esami di riparazione perché un fallimento di nuovo dell'Europa su questo che si assomma a Grecia a immigrazione eccetera eccetera farà vincere i nazionalisti per forza per forza i nazionalisti ripeto non i nazionalisti straccioni attenzione i nazionalisti che hanno un disegno che la crisi del mondo contemporaneo non può essere risolta secondo i sistemi democratici liberali questo è un grande rischio perché questo è il sottinteso del discorso di Trump è il sottinteso del discorso di Johnson è il sottinteso non è Orban Orban lo esplicita lo esplicita ma è Putin esatto ma è la Cina benedetti noi ma è la Cina benedetti noi è l'expload cinese che in tutto il mondo ha messo nella zucca che i sistemi liberali non funzionano per lo sviluppo anche perché quando appunto in più occasioni abbiamo discusso anche al festival della politica la crisi della la democrazia rappresentativa ovviamente diventa anche più evidente quando non sei in grado di dare risposte concrete alle persone se tu non hai risposte in termini di sviluppo di welfare la democrazia comincia a scricchiolare bisogna avere una visione realistica al limite materialistica della democrazia non è solo quello ma se manca quello se la democrazia fallisce nella sua nella sua promessa reale non promessa chiacchierata promessa reale di sviluppo di benessere di crescita sociale eccetera eccetera che non è soltanto economico ovviamente la sua legittimità viene meno i suoi fondamenti vengono meno c'è poco da fare quindi queste scelte che saranno prossime anche da parte dell'Europa rischiano di comportare anche un riequilibrio degli equilibri geopolitici che ci sono in alto prima avvocavi la Cina la Russia accidenti cosa può succedere in questo? può succedere un riequilibrio internazionale nel quale tu hai le 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 grandi capitali di quello che alcuni autori chiamano capitalismo politico cioè di un capitalismo che fa tutt'uno un sistema di mercato capitalistico che però fa tutt'uno con il potere politico ed è sostenuto dal potere politico e praticamente le persone proprio sono formano una elite dirigente unica esempi tipici Cina e Russia in termini diversi ma tipici quel 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 modello è quello che è maggiormente capace più rapidamente capace di uscire dalla crisi e di imporsi perché perché è così c'hai la Cina che non ha debiti con nessuno adesso si prenderà una battosta va bene ma una battosta che significa che invece di crescere del 4-5 il prossimo anno crescerà dell'1 sì no certo quella che prenderemo noi come europei quella che prenderemo noi come europei neanche lontanamente quindi ed è liquida e quindi si muoverà per continuare la sua politica di acquisizione che già sta trionfando in Africa e potrebbe rafforzarsi ulteriormente grazie proprio alla nostra crisi quindi sai è una una strategia cioè forse non è neanche una strategia io credo che lo sia ma non è forse neanche una strategia di egemonia è un processo naturale fisiologico laddove l'Occidente tramonta per usare i titoli di una volta e quindi sorge quel sole lì ma d'altra parte non sentiamo dappertutto da parte di alcune a volte con voci macchiettistiche a volte con voci molto serie l'esaltazione del modello cinese non lo sentiamo da parte di decine e decine di anche imprese imprenditori europei e occidentali questa litania lì sì che lavorano lì sì che sono bravi lì sì che decidono lì sì che c'è un governo che decide c'è un governo che fa tutt'uno con il sistema economico ripeto sono trasformazioni culturali che hanno una profondità che non dico siccome li viviamo questi fenomeni non ce ne accorgiamo della novità che rappresentano se tu ti immagini che i leader della prima repubblica mi ricordo battuti gli andreotti a questo proposito erano sì noi possiamo faceva capire chiaramente noi possiamo anche prendere le bustarelle noi possiamo anche prendere i soldi dagli imprenditori ma distinzione radicale tra noi e loro eh certo noi prendiamo i soldi ma noi siamo noi i politici e loro sono loro imprenditori ed era così ed era così per tutti i partiti era così ecco in questa fase per lusconi è stato quello che ha cominciato a rovesciare la regola e infatti ci sembrava 30 anni fa una novità assoluta per questo motivo adesso ci sembrerebbe una novità ma scherzi no infatti assoluto adesso comunque in questa fase di grande difficoltà nonostante tutte le debolezze le fragilità che abbiamo anche ricordato in questo momento cioè bisogna in qualche modo però cercare di fare anche quadrato no rispetto al al governo rispetto rispetto alla maggioranza che sta guidando questo questo processo perché anche non ci sono non vedo molte alternative no quindi se non quelle di cercare di rafforzare di rafforzare il quadro il quadro esistente in questo senso concludendo il questo affidarsi come dire ai tecnici in questa fase ovviamente agli scienziati per adottare le misure necessarie a far fronte all'emergenza del virus adesso è stata nominata una nuova un gruppo di tecnici per affrontare la fase 2 cioè non c'è il rischio di espropriare ancora una volta la politica però da quelle che è il suo ruolo decisionale anche se siamo in una fase di grande difficoltà dunque guarda il il io io credo che che ripeto la fase 2 sarà durissima ma è da augurarsi lo scritto anche che questo governo anche se finora non mi sembra che diede segnali in questa direzione adesso lo vediamo meglio ma insomma faccia molta fatica a pensare davvero a programmare la fase 2 comunque è augurabilissimo che ce la faccia perché se non ce la facesse si aprirebbe una crisi sociale non solo economica da cui poi può nascere qualsiasi cosa ma comunque catastrofica per l'economia e per la società del nostro paese quindi mi auguro davvero che il governo capisca bene la situazione e prepari la fase 2 con la massima serietà per preparare la fase 2 bene che si affidi ad esperti eccetera eccetera benissimo speriamo che siano esperti che diano indicazioni tassative cortarelli altri possono dare indicazioni tassative su come recuperare qualche miliardi e su come spendere meglio quelli pochissimi che abbiamo benissimo ripeto Nicola le cose la tendenza è quella di cui abbiamo detto ma non è che sia un esproprio perché gli attuali parlamenti non hanno alcuna proprietà quindi non gli espropri di niente quindi devono essere loro devono essere le forze politiche devono essere i parlamentari le forze politiche che presentano delle precise richieste che dicono no noi siamo qui per fare questo devono essere i partiti politici ci sono devono essere strategie politiche che ricollocano le assemblee legislative parlamentari al centro del dibattito insieme ad una ridefinizione dei loro rapporti col governo non puoi pensare se no la tendenza sarà quella per fare delle cose ecco il commissario per i lavori pubblici il commissario per il deficit spending per lo spending review il commissario per sarà così il commissario per gli investimenti e le infrastrutturali eccetera eccetera e sarà così sarà la logica che noi conosciamo bene ahimè a Venezia del 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 MOSE del Consorzio Venezia Nuova sarà quella logica lì che prevarrà quella con l'esproprio appunto dei comuni delle province delle regioni del Parlamento governi i governi e i loro tecnici e allora sono i partiti politici che le hanno a dire cosa ne pensano ci sono e se ci sono dicano cosa ne pensano dicano bada che noi abbiamo i tecnici ma li hanno questo è il punto una volta se fosse stato così Democrazia Cristiana e il Partito Comunista cosa l'avrebbero detto ma siete scemi i tecnici sono noi semmai siamo noi i partiti che vi diciamo questo è il tecnico il mio rappresentante del partito viene questo non è il tecnico del governo ci sarà anche il tecnico del governo ma ci sono i tecnici qui e questo è il punto i partiti hanno il vecchio discorso che faccio da decenni i partiti hanno il loro interno le competenze per affrontare situazioni di questo tipo che poi dovrebbero essere competenze normali i partiti hanno il loro interno che si intende l'economia chi si intende di amministrazioni locali chi si intende di riforma dello Stato chi si intende di politica estera al loro interno i politici se i politici non hanno la tecnicalità al loro interno ma per forza che i governi vanno in cerca del tecnico fuori è logico è ripensare la politica ripensare la politica con all'interno anche tutte le dimensioni tecniche necessarie è un discorso vecchio cioè noi abbiamo smantellato non tanto i partiti abbiamo smantellato il discorso della competenza e dei saperi nella politica cioè abbiamo una politica che non sa più e allora se devi affrontare in emergenza queste situazioni una volta è il medico l'organizzazione sanitaria una volta è quello della protezione civile che sa almeno come si organizza un campo un'altra volta sarà Cottarelli un'altra volta c'è la forza mentre responsabilità sono anche non solo dei partiti dei politici ma del del clima generale che si è che si è creato attorno alla politica in questi ultimi 30 anni direi perché non è una cosa che è cominciata che è cominciata la settimana scorsa ecco questo è un po' il quadro la casta la casta questo è il risultato prendi il bambino l'acqua sporca e butta via tutto e butta via tutto questo è un po' il risultato o recuperiamo tutto questo culturalmente questo vale in particolare per il PD perché cosa vuoi che questo discorso vada a fare i 5 stelle che credono che la democrazia sia cliccare lo vogliava a fare no è il PD se il PD capisce finalmente questo discorso e si attrezza in questo senso questo dà un segno di vita in questa direzione questo è il punto e quindi adesso tutto sarà rimandato anche lì dentro penso non so credo rimandato tutto come fai per pensare seriamente a un congresso dove neanche ti puoi incontrare come fai certo è cambiato tutto il mondo in poche settimane avevamo le sardine avevamo fino a un mese fa quindi per quest'anno quest'anno non succederà nulla poi bisognerà vedere per quest'anno non succederà nulla quest'anno bisogna mettercela tutta perché l'economia non tracolli al 100% e perché avvengano queste coste prima manovre tampone poi queste manovre per la riorganizzazione e ristrutturazione ma insomma tutto sarà si baserà su questi temi e vediamo bene io ti ringrazio Massimo concludiamo qui questa bella conversazione il festival online sempre in attesa di rivederci nelle piazze o dei convegni come da sempre facciamo negli ultimi quasi 15 anni il festival prosegue intanto online in tutti i prossimi appuntamenti li troverete sui canali web del festival della politica e della fondazione Gianni Pedicani arrivederci grazie a tutti